bentornati amici carissimi vedo già un po di domande cominciamo le risposte così non perdiamo troppo tempo e vediamo se riusciamo a terminarle allora sto cercando la prima carissimo don leonardo volevo chiederle un consiglio su come combattere la mancanza di costanza nella preghiera è una cosa che mi addolora molto tutte le volte che ci casco la ringrazio buona serata la costanza fermo restando l'azione della grazia di dio è un atto della volontà a figlia cara per cui noi dobbiamo chiedere al signore certamente che ci aiuti che ci doni questa virtù ma poi dobbiamo metterci la buona volontà quindi una ferma risoluzione e imporci alcune cose d'accordo perché la preghiera come si legge nel catechismo della chiesa cattolica e proprio in questi giorni sto scrivendo degli articoli che saranno pubblicati sul settimanale di padre pio e poi a suo tempo più avanti dopo che sono uscito le viste sul mio blog e se uno apre il catechismo della chiesa cattolica e va all'ultima sezione stupenda che parla appunto della preghiera si vedrà anche che la preghiera è un combattimento c'è un'intera sezione dedicata a questo aspetto e dentro questa sezione troverà appunto che uno degli aspetti su cui combattere è l'incostanza nella preghiera perché gesù ha raccomandato le mangiare che bisogna pregare sempre senza stancarsi parabola della vedova importune e questo è un atto della nostra volontà evidentemente quindi non è che ci sono ricette magiche bisogna imporsi di pregare prendere delle risoluzioni e metterle in pratica il potere della nostra volontà certamente ripeto aiutato e coadiuvato dalla grazia perché la volontà purtroppo è debole ma è comunque libera ed è comunque capace di governarci ci consente di prendere degli impegni e osservarli se io decido che devo dire una corona del rosario al giorno io la corona del rosario al giorno la dico punto e basta se decido di dirne due ne dico due se decido di dirne tre ne dico tre se decido di dirne quattro ne dico quattro se decido di andare a me saluto i giorni vado a me saluto i giorni adesso non voglio fare come dire battute con la situazione precaria che c'è quindi pace in terra gli uomini di buona volontà nel nuovo messale tradurranno diciamo così letteralmente il greco gli uomini che egli ama ma gli uomini che egli ama dio ama tutti in quanto suoi figli ma ama di amore come dire fecondo gli uomini di buona volontà perché solo in chi ha buona volontà la sua grazia può operare appunto aiutandolo a concorrere alla propria santificazione buonasera un sacerdote ha detto che la trasfigurazione una metafora che va interpretata e non un fatto descritto fedelmente è vero probabilmente vale il avrà capito male o il sacerdote si sarà espresso male perché se apre la dei verbum il concilio vaticano secondo vedrà che la chiesa crede fermissimamente nella storicità di tutta la sacra scrittura tutta nessuna parte esclusa quindi la chiesa interpreta in senso allegorico quindi simbolico solo quei brani dove è assolutamente evidente la loro valenza simbolica tanto per fare un esempio che è il cantico dei cantici poi il libro dell'apocalisse ma tutti gli altri libri biblici il senso storico letterale è sempre presupposto come reale dalla sacra scrittura figuriamoci poi gli eventi riguardanti la vita di nostro signore gesù cristo per cui inquisitore s.r.clesi dice buonasera donato come ci dovrà comportare quindi con la settimana santa allora questo è assolutamente prematuro perché qui non sappiamo neanche cosa succederà domani la situazione in cui stiamo è molto aleatoria e la santa sede come tutti sanno ha programmato una serie di ha programmato diciamo una settimana santa a porte chiuse presupponendo probabilmente che lo status attuale debba poi protrarsi allora la sala evidentemente la santa sede non può fare queste cose due giorni prima quindi deve agire con un pochino di anticipo io non sono una persona molto dentro diciamo così le strutture della chiesa quindi i problemi e le questioni da curia quindi non so se questo possa dipendere dal fatto che alla santa sede sono arrivati indiscrezioni sul protrarsi della situazione diciamo di emergenza non lo so io so semplicemente che il 3 aprile scade il decreto che il vescovo di latina invito gli ascoltatori se mi posso permettere insomma fare una preghiera che oggi è il compleanno del vescovo di latino quindi una piccola preghiera per lui e la possiamo fare tutti quanti insomma quando scadrà il 3 aprile vedrò la decisione vedrò io con tutti i miei confratelli che cosa il vescovo ci dice di fare e quello che il vescovo ci dice di fare sarà fatto se c'è la settimana santa in streaming c'è la settimana santa in streaming non succede assolutamente niente non succede niente d'accordo perché se questa sarà la volontà di dio la facciamo tutti quanti con gioia non succede assolutamente niente non muore nessuno non c'è la fine del mondo non si sfascia la chiesa non finisce la fede non succede niente d'accordo l'importante è fare la volontà di dio e prendere le cose con gioia Diego Taloi buonasera padre voglio chiedere la messa è valida anche se nel caso non si mette l'unacum ma io spero che questo mettere l'unacum non sia quella stupidaggine insomma che ha girato un pochino di tempo fa che riguarda a celebrare la messa in comunione come evidentemente non si può neanche lontanamente pensare di non fare con il pontefice regnante perché insomma di queste sciocchezze io come dire preferirei proprio completamente sopra sedere insomma chi va dietro a queste sciocchezze che tali sono a mio avviso faccia pure insomma ma io non credo che sia neanche il caso di spenderci più di qualche parola insomma no quindi la messa nella chiesa cattolica non può essere celebrata se non in comunione con il papa e con il vescovo con quelli che la divina volontà ci manda buoni o cattivi, graditi o sgraditi, simpatici o antipatici, belli o brutti è quello che è, quello che sono io se qualcuno ha ascoltato interventi, cattolica sono altamente allergico a inserire considerazioni di ordine personale di gradimento, di non gradimento, di simpatia o di antipatia in relazione ai rapporti gerarchici il vescovo che ho io adesso è il vescovo, punto il papa che c'è adesso nella chiesa è il papa io disapprovo, evidentemente quando sono cose fatte in maniera disordinata sia i folli di Francesco Latria come lui stesso, penso che chi lo conosce lo sa in più di qualche circostanza ha avuto modo di biasimare perché non si può fare il culto della personalità di nessuno neanche del papa così come l'altro versante insomma che viene dice di veste e di corna che appena muove cioè qualunque cosa faccia cioè pure ieri che è andato davanti alla Madonna come si chiama alla Salus Populi Romani e prega per la cosa sicuramente troveranno da dire anche su quello io vi disapprovo questo modo di fare perché è un modo di fare e proprio è come dire la quintessenza dell'umana volontà le gerarchie della chiesa cattolica non si come dire non è che si obbediscono si riveliscono filiale rispetto e obbedienza da parte di tutti gli edo perché sono simpatici, antipatici perché la pensano come me perché portano avanti la stessa linea che porterei anch'io ma in quanto autorità punto e basta insegnite di una sacra potestas che gli ha dato nostro Signore Gesù Cristo giudicarli su di essa è compito di nostro Signore Gesù Cristo non nostro d'accordo? ho sempre detto ma questo è palese e come dire l'autorità perde il suo diritto di vincolare solo quando ordina formalmente qualche cosa che sia contrario alla legge di Dio ma deve essere un disordine cioè una cosa formale non una cosa ambigua o una cosa che sta nella testa mia cioè non faccio questa cosa perché secondo me questa non è volontà di Dio ma che dici? cioè se non è volontà di Dio se la vede l'autorità d'accordo? tu la fai punto e basta a meno che non contraddica esplicitamente i dieci comandamenti insomma questo è ma questo è ovvio questo qui no? basta non c'è altro da aggiungere per quanto mi riguarda nella Chiesa Cattolica funziona così Gesù è stato chiarissimo nel Vangelo tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato nei cieli tutto ciò che scioglierete nella terra sarà sciolto nei cieli chi ascolta voi ascolta me l'ha detto agli apostoli d'accordo? ecco quindi il discorso è bello che è chiuso bambini 4 buonasera Don Ordo vuol dire qualcosa se fai dei segreti di Meggiugorie grazie Gian Maria ma Gian Maria se sono segreti i genti stessi di Meggiugorie quando ti fanno questa domanda danno questa risposta se non fossero segreti ne potremmo parlare ma se sono segreti evidentemente essendo segreti non se ne può parlare quindi si figuri Gian Maria se ne so qualcosa io che non ho nessun contatto nessun rapporto insomma con i veggenti di Meggiugorie anche se personalmente sono propensa a credere a queste apparizioni a maggior ragione ora che ci abbiamo avuto le belle notizie da parte della commissione circa la prima apparizione buonasera caro padre vuoi spiegare perché i rapporti omosessuali sono un grave peccato io quando lo dico le persone dicono sono omofobe medievale allora il problema cara il gatto io è molto semplice qui non si tratta non bisogna mai farsi tirare dentro queste questioni dell'omofobo del non omofobo eccetera eccetera allora quello che la chiesa cattolica illuminata dalla rivelazione da Cristo insegna è una cosa cioè che la sessualità umana ha un ordine stabilito da Dio e l'ordine stabilito da Dio che è quello naturale e che ci accomuna diciamo così anche agli esseri non umani è che la sessualità umana è formalmente ordinata alla procreazione punto d'accordo quindi si può vivere il piacere della sessualità ordinata dentro questo orizzonte inoltre d'accordo perché non basta inoltre la chiesa insegna che questa cosa può essere vissuta solo all'interno di un rapporto che sia sigillato da un sacramento in modo tale che ogni esercizio dell'attività sessuale di qualunque tipo d'accordo fuori del matrimonio anche eterosessuale è peccato mortale cioè non è peccato mortale soltanto un rapporto omosessuale è un rapporto mortale è anche un rapporto tra un uomo e una donna fuori del matrimonio che uno sia più grave e uno l'altro meno grave non cambia la sostanza fondamentale del discorso dell'insegnamento cioè questa è la fede cattolica questa qui e certamente ci sono date spiegazioni adesso non è questa la sede d'accordo ma questo vale per tutti un atto impuro solitario uno può essere detroga da quanto gli pare è peccato prima durante e dopo il matrimonio lo resterà sempre e anche dentro il matrimonio ci sono fatto cento miliardi di catechesi dentro non è che siccome uno c'è il sacramento del matrimonio può vivere qualunque cosa all'interno del matrimonio qui per favore chi può capire capisca perché la chiesa con linguaggio sobrio nella Gaudium et Spes dice che i conogi che si uniscono tra loro in maniera umana e onesta chi può capire capisca faccio io la chiosa compiono atti rodevoli e degni insomma ma chi si unisce in maniera umana e onesta noi dobbiamo entrare nel linguaggio ecclesiale perché il linguaggio ecclesiale specialmente in un documento di magistero non si mette a fare gli esempi o i disegnini ma se una persona intelligente vuole capire capisce molto bene d'accordo anche perché la coscienza e assicuro dei coniugi cristiani quando si comincia a uscire fuori dalle righe comincia a rimordere sia da parte dei maschietti che da parte delle femminucce e rimorde perché si sta uscendo dall'ordine stabilito da Dio tanto tempo fa io ebbi un'intervista non dico quale su una radio nazionale dove l'intervistatore era un noto provocatore che mi trascinò proprio su questo ambito ma se si viene a confessare uno che commette gli atti omosessuali lei che cosa gli dice la stessa cosa che direi come dire a un adolescente che mi venisse a dire che ha commesso un attimo puro solitario che non si fa perché non è sposato non è sposato in chiesa con una persona dell'altro sesso e quindi questa cosa andiamo a fare finito d'accordo cioè non è tanto anche qui si apre il catechismo della chiesa cattolica e si veda poi perché le cose stanno così allora qui uno si vuole approfondire ho fatto tante di quelle catechesi perché un sacramento per vivere anche la sessualità ordinata secondo Dio dice ma come io sono innamorato ho la mia compagna ci uniamo santamente umanamente onestamente facciamo tanto e tanti bambini che facciamo di male perché il sacramento del matrimonio va qui catechesi adesso non abbiamo tempo chiaramente sta parlando di queste cose qui è una legittima domanda come mai ci sono delle possibili spiegazioni ma che questo sia non si discute non è che uno può andare ad attaccare la fede cioè il nostro fratello o sorello omosessuale mica può venire a dire a me non mi sta bene che nella chiesa l'eucaristia si celebri col pane azimo e col vino facciamola con gli spaghetti e col whisky non si può fare d'accordo fa una telefonata al nostro signore vedi se se gli sta bene celebra l'eucaristia con gli spaghetti e col whisky d'accordo quindi queste cose non sarebbe mentate la chiesa la chiesa riceve la vedità e il bene dal signore e deve semplicemente trasmetterli custodirli spiegarli e difenderli punto uno può tranquillamente non essere d'accordo ma chi è l'eretico d'accordo in senso buono non in senso offensivo l'eretico è chi è fuori della comunione con la chiesa è un peccato grave contro il primo comandamento d'accordo per cui non accettare una dottrina come dire autentica è un peccato mortale contro il primo comandamento per cui niente comunione e niente assoluzione se questo peccato non lo riconosce non te ne penti cioè non sono eretici soltanto i grandi eretici come dire scomunicati eccetera eccetera anche un fedele che prende un dato morale o di fede rivelato e dice ah io non sono d'accordo cade in errore o eresia perché è un peccato grave contro il primo comandamento d'accordo anche qui chi vuole approfondire io in passato di catecari su dieci comandamenti non fate abizzeff lo trovano sul canale youtube lo trovano su iTunes lo trovano sul mio sito trovano una montagna di articoli che ho scritto sul mio blog dominameatmatermea punto blogspot punto com d'accordo un giorno o l'altro dovrò decidere di cambiare il nome se ci riesco a sto blog perché se si chiamasse dolonardomaria punto blogspot punto com sarebbe meglio ci dovrò pensare però per dire chi vuole approfondire può farlo però cioè noi per quanto riguarda la fede la fede noi la riceviamo e non la possiamo cambiare d'accordo nessuno potrà mai dire ma nessuno nessun farò tanto ridere quando cominciano a dire ah ma la chiesa si deve aprire ah ma qua ma là ma il papa a destra a sinistra chiunque facesse una cosa ma non è a parte che non lo farà ma se per assurdo dov'è succedere una cosa del genere non c'è non esiste capito non si può fare noi non abbiamo un patrimonio disponibile la questione del sacerdotio delle donne quando san giovanni paolo ii la chiuse perché questa questione è chiusa non sarà mai più riaperta perché san giovanni paolo ii quando la chiuse disse questo insegnamento deve essere ritenuto come definitivo d'accordo quando un papa dice così e dice sto parlando nell'esercizio delle mie funzioni di successore di pietro con il compito di confermare i fratelli nella fede vuol dire che un altro papa non potrà dire mai ordiniamo una donna non lo potrà fare d'accordo non può ecco ma che cosa ha detto san giovanni paolo ii noi siamo retrogradi a noi le donne si stanno antipatici queste donne proprio devono stare a casa a fare la calzetta e quindi i preti non ce le vogliamo ha detto questo per caso no ha detto una cosa molto semplice io devo prendere atto del fatto che il nostro signore gius Cristo era un maschio che i dodici apostoli erano maschi che la madonna prete non c'è diventata d'accordo cosa significa questo significa che la volontà di Dio è stata di riservare il sacerdotio ministeriale ai battezzati maschi questa cosa io non la posso cambiare manco del suo Papa perché se un vescovo ordinasse un prete una donna gli fa la stessa ordinazione che ha fatto a me tale e quale la stessa cosa la porta gli fa la preghiera consacratoria gli unge le mani col crisma gli impone le mani tutto quello che fa ha fatto a me quella prete non ci diventa capite non è che la chiesa non vuole ordinare la chiesa non ha ricevuto da Cristo il potere di farlo capito non te la vuoi prendere col Papa o con la chiesa fai una telefonata al Padre Eterno non so se riesco a farmi capire queste cose la gente devono essere dette nessuno potrà mai dire che commettono un attimune una cosa buona nessuno capito nessuno ogni tanto mi arrivano le email con le cose strane mi sono stato autorizzato affaché la legge di Dio non la può dispensare nessuno adesso si può dispensare la legge della chiesa non la legge di Dio tanto per fare un esempio c'è gente che sta preoccupata mi scrivono le mail padre adesso non stiamo andando a messa la domenica peccato mortale dico dico ma dico ma dico 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 ma quale peccato mortale dico allora ricordare di santificare le feste è un precetto positivo per cui la chiesa è intervenuta dicendo guarda figlio mio che per santificare la festa te lo dico io quello che devi fare la festa che deve essere santificata è di diritto divino perché c'è il terzo comandamento come la santifico? cioè come faccio a stare tranquillo che il terzo comandamento l'ho assolto? allora la chiesa ha detto partecipi alla messa festiva e ti astieni dai lavori non necessari finalizzati al solo scopo di lucro o che ti spossano e ti ammazzano e non ti fanno vivere il riposo domenicale chiaramente su questa seconda cosa ci vuole un pochino di grano salis essendo una legge ecclesiastica quindi il diritto divino è il terzo comandamento non andare a messa la domenica perché dovete sapere e questo ve lo dico io che io come parroco se un mio fedele non ha la possibilità di andare a messa una domenica e mi dice padre mi può dispensare dall'andare a messa questa domenica io lo posso fare io non faccio nessun peccato a dispensarlo se ci sono delle buone motivazioni e lui non fa nessun peccato ad andare a messa certo posso dirgli bene se non puoi venire questa domenica ti do la dispensa ma verrai a messa mercoledì giovedì ma si può fare questo qua nei decreti con cui i vescovi hanno stabilito le celebrazioni a porte chiuse anche quello del mio che ho anche pubblicato quindi ti manca andare a vedere perché non sono segreti i decreti dei vescovi sono pubblici cioè contestualmente tutte queste disposizioni dispenso tutti i fedeli dal progetto festivo finito il discorso che ti viene a confessare è una cosa che non puoi fare o vuoi forse pensare che in tutta la chiesa tutti i vescovi vanno contro la legge di Dio e nessuno apre bocca cioè quindi d'accordo ecco Vale.il dice essendo i protestanti eretici è lecito con un cattolico partecipare alle loro assemblee allora numero uno Vale.il fermo restando il rispetto della verità viviamo in tempi storici in cui il linguaggio deve essere sempre possibilmente come dire pacato e non 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 troppo diretto diciamo non troppo esplicito o con qualche venatura un po' chiamiamoli fratelli separati d'accordo che sono che non sono in comunione perfetta con la chiesa d'accordo allora la partecipazione e come dire ha funzioni di un'altra confessione di per sé non è proibita d'accordo credito adesso per i canonisti durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani per esempio si fanno liturgie della parola congiunte d'accordo è chiaro che è proibita sempre la partecipazione all'eucaristia e non assistere ad una funzione d'accordo ma per esempio comunicarsi dentro una assemblea di fratelli separati perché fratelli separati avendo rotto il sacerdozio la successione apostolica non celebrano una vera eucaristia lì veramente c'è un simbolo e una memoria non reale dell'ultima cena quindi io non posso associarmi a quell'atto né viceversa né un fratello separato può venire a messa e fare la comunione come se niente fosse se non è prima entrato in piena comunione con la chiesa cattolica d'accordo però se ci sono delle cose in cui è possibile una partecipazione che ne so io per esempio penso al mondo a tutto quanto il mondo carismatico che conosco poco il mondo carismatico che sappiamo che ce n'è una declinazione anche in ambito cattolico ci sono alcuni movimenti non li conosco bene quindi ne nomino qualcuno a memoria ma non voglio offendere nessuno tipo il rinnovamento nello spirito tipo la comunità Gesù Risorto che sono fanno parte diciamo così del movimento carismatico cattolico ma il movimento carismatico è nato in ambiente notoriamente insomma non cattolico se fanno un incontro di preghiera dove non è proibito diciamo così parteciparci evidentemente uno ci partecipa da 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 cattolico almeno questo è quello che io so poi c'è mio amico Don Pierpaolo insomma che è un super canonista posso posso chiedere a lui che che mi dia la la conferma quanto ne so ecco il problema è quando c'è la partecipazione e quindi l'eventuale comunicazione in sacris perché con i sacramenti non si può scherzare perché purtroppo specialmente poi le comunità appartenenti al mondo della riforma protestante i sacramenti veramente li hanno li hanno ridotti proprio abbastanza maluccio a differenza degli ortodossi quindi ecco spero di essere stato chiaro ma dicemi ti aiuti in questo periodo buio ci aiuti a vedere con gli occhi della fede ma ma dicemi se lei sente i miei ultimi interventi anche l'omeria della messa di questa sera insomma che non è ancora pubblicato su youtube perché non c'è avuto tempo finita la trasmissione la manderò io nelle riflessioni nelle omilie negli interventi di questi giorni sto sempre cercando anche perché la parola di Dio sembra quasi fatta apposta di proporre una lettura di fede di tante cose che stiamo vivendo d'accordo io penso che questa cosa questo tempo di deserto reale e anche di assenza dal contatto fisico con i sacramenti l'ho già detto in alcune circostanze serve a chi li ha frequentati pochi per li ha sempre frequentati poco per il quale in verità a parte i problemi legati al coronavirus da un punto di vista religioso cambia assolutamente nulla perché a me se non ci andava prima e a me se ce la manca adesso quindi che non ci siano le messe vedere questa cosa sapere questa cosa potrebbe essere un aiuto a farlo riflettere un po' d'accordo cioè nel senso dice prima non ci andavo ma se volessi andarci ci sarebbe proprio quindi che sarà questa cosa punto interrogativo ma invece ai cosiddetti vicini diciamo così voglio pensare bisogna vedere quanto abbiamo apprezzato tante cose quanto le abbiamo vissute bene con fruttuosità quanto siamo stati devoti attenti durante la messa durante la comunione io ho sempre detto in questi giorni qui tutti stanno stracciandosi le vesti che non si può fare la comunione mica durerà una vita questa cosa qui durerà 20 giorni un mese due non lo sappiamo ma insomma no e dico sapete che Santa Chiara io ho conosciuto in Italia c'è una piccolissima comunità francescana dove stanno cercando di rivivere e a livello di clarisse la spiritualità di Santa Chiara d'Assisi chi si accosta a questo mondo trova subito delle grosse resistenze perché siccome Santa Chiara e le sue suole facevano la comunione sette volte l'anno sette volte l'anno Natale Pasqua Immacolata Assunzione festa dei santi forse l'Epifania e non so quale altra festa non me lo ricordo più basta ma Santa Chiara è diventata Santa Chiara oppure no? è diventata una santa che fa paura oppure no? faceva la comunione tutti i giorni? no faceva la comunione tutte le domeniche? no faceva meno comunione lei che i malati di un parroco a cui il parroco porta la comunione cosa che io ho sempre fatto tutti i primi inerti del mese più il bis a Natale a Pasqua quindi i malati fanno la comunione 14 volte l'anno cioè il doppio delle volte che lo facevano le clarisse pur andando a messa tutti i giorni ma che cosa significa questo? conta il numero delle comunioni che noi facciamo o conta di più la qualità chiaro la comunione frequente anche quotidiana è altamente santificante purché siano tutte grandi comunioni però non gesti abitudinari non gesti fatti in maniera mi si perdoni un pochino magica noi sta cosa qua del fatto che i sacramenti funzionano in maniera magica bisogna togliersela dalla testa Papa Francesco l'ho già detto 3000 volte non mi importa niente se qualcuno storce la bocca e criticherà una quindicina ventina di giorni fa ha detto non esiste un Gesù mandrache io ho capito subito quell'espressione anche perché avendo l'esperienza pastorale di parroco e che è stato a contatto con una marea di gente capisco che cosa intende e sono d'accordo la comunione certamente è un sacramento quindi sacramento vuol dire che non dipende da te cioè una volta che sei sottato consacrato dice Gesù Cristo punto e basta quando tu ricevi la comunione ricevi Gesù Cristo in questo senso il sacramento è blindato a una sua struttura che dipende che sopra è operato e non dipende dalla tua fede ciò detto però cominciamo subito a fare distingui se una persona ha commesso un atto impuro e non si è confessato o peggio ancora neanche lo riconosce come tale e fa la comunione qualcuno mi sa dire che cosa gli fa quella comunione ve lo dico io se qualcuno glielo sa dire si trasforma in veleno perché quella comunione è sacrilega è un peccato gravissimo è un peccato più grave in assoluto che si possa commettere non la santifica per niente ma chi la commette fa uno sfregio atroce a Gesù è un danno enorme alla sua anima non perché la comunione non sia una cosa buona ma perché il ricettore è marcio non la puoi ricevere così la comunione quando tu stai in grazia di Dio la comunione la puoi fare ma quanto funziona la comunione dove stanno tutti qualcuno di voi conosce tutti questi santi che stanno in giro quando uno riceve la comunione figlioli miei cari riceve Dio in persona dentro il cuore riceve Gesù Cristo Gesù Cristo dovrebbe reggersi sulla tua faccia sulle tue azioni d'accordo nella tua santità ma dove stanno tutti questi santi allora che succede la comunione non funziona o forse non basta ricevere la comunione neanche se ti sei confessato perché non basta che ti sei confessato perché per ricevere Gesù in maniera futtuosa ti devi preparare la comunione non bisogna prepararsi ma quanta gente arriva a messa un quarto d'ora dopo pure la domenica e poi va tranquillamente a fare la comunione come se niente fosse a messa si arriva un quarto d'ora prima se ti vuoi fare la comunione perché cominci a pregare in quante parrocche si fa il rosario mezz'ora prima che comincia la messa dovrebbe essere la preparazione alla messa e alla comunione dopo che hai fatto la comunione tu c'hai Gesù Cristo dentro il cuore non puoi appena fatta la benedizione ne piglia e scappi via che c'hai la graticola sotto il popò o la sedia elettrica che sembra che che detto te andrà se tu esci con Gesù Cristo ancora che non ti sono manco consumato e le spese tu ti porti a spasso Gesù Cristo ma quanti fedeli io non ci sto nel cuore dei fedeli quindi io spero che non sia così però io sono parroco da 16 anni Cribbio cioè celebro la messa da 16 anni in pubblico con partecipazione di persone variabile da 4-5 a 500 pure in certe assemblee e vedo quanta gente si fa la comunione ma vedo anche quanta gente rimane dopo la benedizione io qualche persona che è rimasta a farci ringraziamento l'ho vista dopo 10 anni che sono stato parroco in quella parrocchia dove sono stato per 10 anni e che per 10 anni gli ho fatto una testa così dicendo ragazzi non si può scappare via dopo la comunione perché quella comunione non te santifica anzi tu lo dispiace Gesù lo offendi perché c'era ricevuto dentro il tuo cuore ma come manco agli dici via te ne scappi come se niente fosse che hai preso una bacchetta magica una magia non sai che Gesù Cristo è vivo dentro di te non sai che aspetta che tu lo ringrazi lo lodi lo adori lo ami ci parli tu vai in giro io ho detto anche e lo ripeto tranquillamente quando io stavo dall'altra parte che non ero prete se mi trovavo in una circostanza in cui sapevo che magari dopo la messa ero proprio impossibilitato a fermarmi perché c'erano i parenti c'era qualcosa del genere io comunione non la facevo per niente non l'ha fatto la comunione no perché io a spasso il nostro Signore non me ce lo porto se non posso stammi in almeno 5-10 minuti non lo faccio perché non si deve fare perché una comunione in meno fatta malamente non fa niente d'accordo non è la fine del mondo le norme della Chiesa dicono che alla fine del mondo quindi obbligano i fedeli sapete a fare quando la comunione a Pasqua a Pasqua e a ricevere il Viatico in punto di morte questo è il diritto canonico che conosco bene basta non ci sono altre condizioni in cui fare la comunione in cui è obbligatorio fare la comunione perché la comunione va fatta bene è chiaro che è raccomandabilissimo San Pio X che Dio lo benedica cioè ha ripristinato la messa quotidiana e la possibilità di fare la comunione anche tutti i giorni nell'attuale disciplina ecclesiastica addirittura fa pure due volte al giorno se una persona si è entrata alla messa dall'inizio alla fine d'accordo ma non è solo fare la comunione come la fai perché se la comunione non te santifica c'è qualcosa che non funziona perché i sacramenti non funzionano come bacchette magiche anche se sono necessari indispensabili per la salvezza la stessa cosa vale per la confessione spero di essere chiaro allora in questo tempo ci aiuti a vedere con gli occhi della fede io penso che tutti quanti adesso che i sacramenti non ci stanno per forza di cose debbano chiedersi davanti a Gesù sono tanto sicuro che io fino a quando c'erano li ho valorizzati bene li ho vissuti bene ho fatto buone comunioni ho fatto buone confessioni sono proprio sicuro che magari qualche giorno potevo andarci a messa anche nei giorni feriali io ho preferito fare altre cose non è obbligatorio ma per carità siamo liberi d'accordo però se lo ami Gesù lo cerchi sono proprio sicuro che qualche volta che sono mancato a messa la domenica non è che c'erano tutte quante queste gravissime motivazioni ero avuto a fare un piccolo sforzo o qualche volta ho preferito dormire piuttosto che andare a messa o cose diciamo molto molto meno nobili voglio fare esami di coscienza quando il signore ci mette nel silenzio e quest'anno si sta a fare la qualissima per forza sotto certi punti di vista è chiaro che questo silenzio lui si aspetta che noi lo viviamo in maniera interattiva in maniera recettiva non semplicemente a fare le lagne le lamentele i viagni stei o fare le tragedie sterili d'accordo dialoga interfacciati rifletti pensa parlane con lui e lo usciremo tutti quanti secondo me se lo viviamo bene alla grande molto più rinnovati e molto più santificati quindi Dio non sta dormendo io dico cioè questa situazione non è che non è che lui sta lì che sta succedendo vai tranquillo io affari vostri vedete vera voi non funziona così non funziona così non funziona così Dio sta parlando non sta dormendo ma Dio parla e vuole che noi ci mettiamo in ascolto ci sturiamo le orecchie e ci sintonizziamo sulle sue frequenze e questo dipende da noi farlo oppure no lui non ti ho a lui a parlare parla lo stesso d'accordo ecco gli effetti benefici della tanta messa di streaming sono gli stessi quanti di patria di ore senza in questo tempo evidentemente sì in tempi ordinari evidentemente no perché la chiesa ha sempre insegnato che per esempio chi può andare a messa la domenica non può vedere la messa in televisione la messa in televisione è per chi ha impossibilità ad andarci quindi quando uno ha 40 di febbre o quando in questo momento partecipare ad una messa di presidenza non è possibile ah può stare tranquillo che sono gli stessi e anche di più d'accordo perché Dio non è legato vincolato diciamo così dagli spazi e dal tempo ma siccome noi sì siamo terreni fino a quando siamo qui e dobbiamo fare qualche piccolo sacrificio quindi quando abbiamo la possibilità di esserci non possiamo utilizzare questi strumenti in sostituzione se uno in un giorno periale vuole vedere una messa in streaming perché non gli va ad uscire o o qualche altra motivazione va bene insomma ma la domenica no in circostanze normali adesso certamente sì settimana santa e eventuali Pasque comprese se il nostro signor ci fa fare Pasqua così ah ma quanta gente non va messa neanche a Pasqua figlioli negari io quando ero più giovane mi ricordo quando ero ragazzino c'erano i parroci che tutti gli santi anni a Natale e a Pasqua facevano le prediche Pasqualini e Natalini io vedo anche questa categoria di persone in netta riduzione insieme ai ai cosiddetti praticanti d'accordo buonasera l'interpreta questa pandemia come previsione divina come punizione divina ma allora non è compito mio dare queste grandi interpretazioni eccetera eccetera io ho già detto quello che penso io so che Dio non dorme che Dio è la causa prima di tutte le cose quindi che quello che sta succedendo dipende dalla sua volontà intenzionale o permissiva ma viva Dio insomma io non sono assolutamente in grado di dirlo che certamente è cosa che rientra in qualche modo nella sua volontà e che questo nonostante quello che a noi ci sembra fa parte di un suo misteriosissimo disegno d'amore questo ce lo dice la fede e su questo non c'è nessunissimo dubbio d'accordo più di questo penso che non si possa dire ma ciascuno di noi ripeto devo raccomandare a tutti quanti di capire bene le orecchie come ho già fatto Dio di Roma 27 secondo me il sacerdote di Gesennio vestono di nero e perché il vescove di viola l'origine di questi colori io sinceramente non lo so ecco non so il significato perché il nero è il simbolo di morte al mondo perché un sacerdote come dire vive nel mondo ma non è un mondano perché vive nel mondo come uomo di Dio è scelto dal mondo per essere diverso dal mondo e mandato nel mondo d'accordo il colore viola è il colore della penitenza d'accordo quindi e i vescovi vi assicuro che di penitenza ne devono fare tanta per il fatto stesso di essere vescovi io soltanto trovarsi in questa situazione qui io dico dico signore meno male ma meno male che non ci sono adesso fattela prendere tu le decisioni adesso perché adesso chi è vescovo qualche cosa la devi fare per forza e decidere in un modo o decidere in un altro su tante questioni cioè per questo che a me a volte mi provo fastidio quando ripeto io non sono vescovo sono un povero prete un povero parruco ma già nell'essere povero prete un povero parruco a volte si sente il peso di dover decidere su cose che poi coinvolgono le altre persone non è facile prendere delle decisioni d'accordo e non si deve per nessun motivo al mondo per nessun motivo al mondo giudicare chi prende le decisioni meno che mai quando è gente insegnita di una sacra potestà non si deve giudicare anche il prossimo d'accordo noi non sappiamo cosa c'è dietro una decisione di un vescovo quanto ci ha pregato quanto non ci ha pregato quali informazioni ha quali non ha ma come fai tu a dire ah questo becilla ha chiuso la chiesa come si permette io dico bisogna dare tutti quanti una bella calmata qui ci stanno tutti quanti opinionisti commentatori scrivono sparano puff a destra questo è il cretino che ha fatto così questo è deficiente perché ha fatto qua gente che quando le chiese sono aperte fanno la comunione tutti i giorni oppure tutte le domeniche ma che comunione te fai si manca un buono a stare zitto sull'operato di un vescovo quanti giorni sti quante volte sti giorni in cui ho citato l'esempio di padre Pio si vede nel film di Sergio Castellitto è un fatto storico il primo persecutore di padre Pio fu il vescovo di una diocesi X che era notoriamente peccatore e non di peccatucci di gola lui fu il primo a affondare padre Pio a metterlo nei guai e quando i figli spirituali di padre Pio andarono a dire ma lo sai che ti ha messo nei guai questo voglio facciare un bel servizietto che mettiamo in giro tutte quante le sue malefatte padre Pio l'ha presa a schiaffi davanti a tutti come ti permetti di parlare così di un vescovo tu satana non si combatte con satana vattene via attenzione a queste parole satana non si combatte con satana quel vescovo c'era la torta perseguita padre Pio certo che c'era la torta era un peccatore certo che c'era un peccatore ma se perseguita padre Pio padre Pio sta sito padre Pio deve stare zitto deve subire l'ingiusta persecuzione come ha fatto e nella difesa da quello può esserlo andare a spubblicare pubblicamente un vescovo della chiesa non sono modi di agire da figli di Dio sono modi di agire da figli di satana questi qua pure se c'è ragione scusate che ogni tanto ma via non può perché ogni tanto ma via non può perché senti oggi senti domani senti dopo domani d'accordo perché pure a me poi a me qualcuno mi accusa perché io dovrei ribellarmi ma tu sei fuori da testa io magari io ma tu sei matto cioè come non ci devo parlare non esiste proprio capito cioè non esiste non esiste chi da me si aspetta questo è come dire cambi soggetto seguito perché non c'è non c'è non c'è stato non c'è e non ci sarà mai a meno che non esca fuori di testa quindi dovrò uscire fuori di testa dovrò perdere il senno d'accordo buonasera Donardo vale la benedizione di un sacerdote scomunicato un sacerdote scomunicato non può compiere nessun atto di ministero sacro già un sacerdote sospesa di Vinis non può compiere nessun atto di ministero sacro perché se lo compie pecca mortalmente e chi vi partecipa o lo riceve pecca mortalmente perché nella chiesa l'esercizio del ministero sacro è subordinato alla comunione gerarchica con il vescovo che sta ordinato e con il capo della chiesa non esistono sacerdoti battitori liberi il fatto che il mio sacramento dell'ordine non me lo toglie nessuno cioè non me lo può togliere nessuno non significa che io lo possa esercitare dovunque faccio subito un esempio se un prete va all'inferno e purtroppo qualche prete che va all'inferno io credo proprio che ci stia ci sia stato e ci starà d'accordo al seguito di giuda escariota un prete che va all'inferno voi pensate che all'inferno faccia il prete celebri la messa assolva le persone battezzi predichi il vangelo all'inferno eppure lui ci sta da prete tutti i diavoli sanno che quello è prete lo vedono che è prete può esercitare il ministero no perché perché non è posto di esercitarlo quello cioè il fatto che tu ci sei non vuol dire che tu per il fatto stesso di esserci lo puoi fare perché per esercitare il ministero sacerdotale tu devi avere la comunione gerarchica con le autorità della chiesa se non lo puoi esercitare recitamente capito? da questa cosa non si esce chi esce esce male sono stato chiaro non si può è chiaro che uno potrebbe farlo perché cioè un atto sacramentale compiuto da un sacerdote scomunicato siccome quello è prete ha una sua oggettiva validità d'accordo? ma il fatto che sia valido non significa che ti santifichi perché se un prete celebra una messa in stato di peccato mortale per i fedeli prete sempre con la chiesa cattolica a messa ci sono stati ma quella celebrazione della messa e la comunione che fa il prete mica lo santifica pecca mortalmente sia a celebrarla la messa sia a fare la comunione come è obbligato a fare durante la messa per cui se stai in stato di peccato mortale la messa è meglio con una celebra propria sono stato chiaro quindi eppure quella è perfettamente varia e sto parlando di un sacerdote in comunione con la chiesa che semplicemente si accosta alla celebrazione è stato di peccato mortale capito? queste cose non possiamo fare come ci pare non si può d'accordo Blasi Arianna scrive buonasera padre sto facendo i vini cinque sabati a Maria ma lo scorso sabato del mese ho trovato la comunione spirituale poiché non mi sono attiva di cera sulle mani sarò valida presumo di sì ma in queste circostanze tanto male non fa quando le acque si saranno calmate si ricominciano i primi cinque sabati del mese io adesso se la Madonna prevede le eccezioni in stato insomma di cose di questo genere ma cinque sabati si può ricominciare insomma non è non credo che sia la fine del mondo Michele Silvana Sciacca vista la nuova disposizione sulla visoria delle chiese è giusto cercare un sacerdote disponibile a confessare o ci si deve tenere le regole per non mettere le difficoltà dei sacerdoti è giusto cercare un sacerdote se si ha necessità della confessione e se nei decreti che ogni singolo escovo ha fatto per la propria diocesi che vanno tra l'altro sempre adeguati alle come dire sempre più dettagliate e in continua evoluzione direttive del governo perché noi non possiamo fare i fuori legge a meno che non ci sia questione di vita o di morte allora lì ok per esempio alcuni vescovi hanno detto la confessione si può fare non in confessionale questo è quello che è stato scritto anche nel decreto del mio vescovo non in confessionale con chi ne fa ragionevole richiesta evidentemente facente parte del territorio perché gli spostamenti sapete c'è molta gente che ogni tanto viene a confessarsi anche da fuori ma non è il caso di farlo adesso in luogo dove possa essere garantito luogo chiuso quindi per esempio un ufficio parrocchiale e dove possa essere garantita la distanza di un metro se il vescovo della sua diocesi Michele Silvana Sciacca ha autorizzato questo basta uno chiedere il telefono al parroco e uno ha bisogno di confessarsi e vive nel territorio della parrocchia con le opportune norme di sicurezza da osservare lo può fare se no no il Signore provvederà in qualche modo le chiese non sono chiuse però anche qui spero che in altri posti insomma ci sia maggiore affollamento pur nel rispetto delle debite distanze e del distanziamento sociale che siamo chiamati a vivere come penitenza qualisimale supplementare mi risulta che più di qualche chiesa che comunque sta aperta per tutto il giorno anche qui tutto questo grande afflusso pur nel distanziamento sociale e di fedeli che dice vabbè la messa non c'è almeno me ne sto un'ora a pregare davanti al Santissimo Sacramento mi risulta che in più di qualche chiesa tutto questo non c'è che le chiese erano vuote prima e sono vuote adesso purtroppo spero chiaramente non è che tutto il mondo è paese che le informazioni diciamo così circoscritte che io ho di cui sono a disposizione non siano valide spero che in altri posti dove le chiese sono ancora aperte ci sia tante persone che vanno a visitare Gesù e a pregare davanti al Santissimo Sacramento ma purtroppo in ogni caso le chiese chiuse per ora non ci sono a Roma era stata fatta questa decisione il Papa è intervenuto in maniera molto delicata molto soft quindi dicendo non esageriamo con la drasticità dei provvedimenti qualcuno ha recepito e ha immediatamente mitigato un provvedimento che sembrava estremo insomma perché non stiamo ancora a livello poi come sapete la la prudenza sociale consiglia adesso anche per chi non è come dire o che non sa di essere portatore del virus se uno si mette la mascherina davanti agli occhi diventa veramente non pericoloso insomma perché con una mascherina e stai a debita distanza e non tocchi nessuno non credo a quanto ne so io che uno faccia metta a repentaglio il prossimo insomma no buonasera Don Leonardo vorrei sapere se Rosario senza misteri va bene comunque non vedo perché non si debbano annunciare misteri perché il Rosario consiste proprio nella meditazione dei misteri accompagnati dalla recita del Padre Nostro e della Maria non ci vuole tanto a imparare misteri o a procurarsi un foglietto insomma un libretto che contenga i Rosari che uno li vede e poi se li recita no? De Gaecris ma perché non sento l'audio è perché De Gaecris non sa temo far funzionare i suoi dispositivi bisogna controllare il volume mettere gli auricolari oppure se è un dispositivo di pessima qualità cambiarlo tutti gli altri sentono ecco l'audio è più che eccellente eccetera salve Padre perché lo sarò ogni giorno estremico con la baseia frequente va bene ma certo grazie va bene testi sulla direzione spirituale magari più sistematici e guardi cerchi online le mie catechesi sulla direzione spirituale e approfondisce questo punto adesso tra poco Instagram ci tappa la bocca non c'è proprio tempo di approfondire il padre ricorda ancora la trasmissione di Salomone la risposta degli intervistatori ah sì Rosario Scavolatiello bene questo l'abbiamo visto ho una domanda relativa al momento nelle ipotesi di morte in questo momento è possibile con lo pensato in questo senso di tutti i parenti no perché il funerale le segue richiedono la presenza della salma è una cosa che non si può fare quello che si può chiedere al sacerdote certamente è di celebrare la messa di suffraggio subito per il defunto in questo momento chi muore non avrà le esegue tutto qui avrà la messa di suffraggio che può chiederne quante ne vuole i parenti farebbero mio viso bene a cercare subito un predisponibile per un bel ciclo di messe gregoriane d'accordo che suppliscono non un funerale ma 300 funerali ecco è appena possibile si va in parrocchia quando sarà possibile si fa una bella celebrazione al trigesimo quando si può perché questo è quello che si può fare le circostanze presenti e questo è quello che consentono buonasera buonasera donardo è cosa buona aggiungere una briga di rompietta se no ci considero una notte serena e una fine beata una notte serena virgola e un riposo tranquillo bisogna dirlo perché è la formula propria una fine beata o una morte santa si può tranquillamente assumere domande personali ai sacerdoti non si fanno quindi questa cosa qui quello che io faccio è stare tranquilli che all'esito si può tranquillamente fare quindi io non faccio mai nulla che vada fuori dalle norme della chiesa questo dico mai e dico mai d'accordo e se qualcuno può dire che il mai non è vero ne parliamo insieme come e quando vuole insomma e le modalità ordinari per ottenere indulgenze ai propri peccati bisogna leggere l'enchiridion delle indulgenze di santa madre chiesa disponibile online direzione spirituale online non si può fare a meno che non ci sia prima una conoscenza diretta e personale della persona perché nulla può sostituire il contatto personale bene diamo la benedizione perché ci mancano 28 secondi non ci facciamo togliere la parola ci vediamo se ti vuole la prossima settimana vi benedico tutti santa notte per chi ha seguito la diretta e ave maria grazie a tutti